Musica Bentrovati alla seconda edizione del TG6, consiglio regionale straordinario questa mattina sul tavolo il caso Ryanair. L'obiettivo è salvare l'aeroporto d'Abruzzo per far sì che non vengano cancellate 5 delle 7 tratte che oggi collegano Pescara con l'Europa. Francesca Romana Testi Il caso Ryanair se ne discute nel corso di un consiglio regionale straordinario. Da un lato ci sono le accuse dell'opposizione che chiede di ottenere dal Ministero il taglio dei rincari sulle tasse aeroportuali. Numero uno il governo Renzi si deve rimangiare l'aumento della tassazione sui transiti aeroportuali così come noi ci opponemmo e facemmo rimangiare al governo Berlusconi il pedaggiamento dell'asse attrezzato. Fatto questo tutte le regioni d'Europa che hanno il medesimo problema devono aprire un'avvertenza con la Commissione europea ed aumentare la possibilità di cofinanziamento dei voli per attrarre passeggeri ed investimenti ad un livello superiore ai 2 milioni e mezzo che non vengono considerati di euro, che non vengono considerati aiuti di Stato. A quel punto ci sarebbe il margine per un coinvolgimento delle forze datoriali e private per mantenere Ryanair qui. Di ieri invece la notizia di un tavolo tra Regione e Destination Management Companies. A loro infatti la responsabilità e il compito di investire economicamente così da ottenere il mantenimento della base di Pescara e tutti i collegamenti presenti tutt'oggi sull'aeroporto internazionale d'Abruzzo. C'è una disponibilità e io sto lavorando affinché si entri nel merito di una proposta legislativa che consenta di incentivare chi partecipa ad un progetto ma non a dare i soldi a Ryanair, un progetto di marketing territoriale, di promozione turistica, di incoming, anche individuando paesi target rispetto ai quali per esempio attivare voli e promozione lì per farli venire qui. Insomma questa crisi dovrebbe trasformare l'aeroporto da un aeroporto di passaggio in un aeroporto di destinazione. A contrastare con la corsa al sostegno economico dei privati c'è il Movimento 5 Stelle che chiede prima di fare luce sulle anomalie riscontrate sull'aeroporto d'Abruzzo e poi di commissariarlo. La polvere non si può mettere sotto al tappeto, bisogna verificare attentamente se è stata sempre rispettata la legalità in tutte le amministrazioni passate e anche quella presente, verificare se tutti i rilievi posti dall'Enac siano stati sanati e poi cercare di mettere in campo delle politiche strategiche per il rilancio dell'aeroporto. Ad esempio io sarei per commissariare immediatamente la saga e mettere un magistrato quale commissario di quella società. Ed ora la cronaca, i finanzieri di L'Aquila hanno scoperto tre aziende che hanno evaso in posse d'IVA per circa 200 mila euro. Daniela Rosone. Evasione fiscale e truffa dovranno rispondere di questi reati e responsabili di tre imprese aquilane che commerciano giocattoli, due commercialisti, oltre alla coniuge di uno dei titolari delle ditte individuali. Un'operazione è questa che è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila che hanno da poco eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni mobili per un valore di circa 200 mila euro emesso dalla locale autorità giudiziaria. In particolare questa misura cautelare giunge al termine di complesse indagini svolte dai finanzieri del capoluogo abruzzese a seguito di una segnalazione inoltrata alla procura della Repubblica dell'Aquila dall'Agenzia delle Entrate Locale. Con questa segnalazione l'ufficio finanziario ha comunicato all'autorità giudiziaria che a seguito di mirati controlli di natura fiscale nei confronti delle tre imprese era stato accertato che le stesse al fine di evadere l'IVA e le altre imposte sui redditi erano ricorse all'utilizzo e all'emissione di fatture fittizie per un importo di circa 200 mila euro. I finanziari del nucleo di polizia tributaria delegati dall'autorità giudiziaria hanno pertanto approfondito le risultanze dei controlli fiscali svolti dall'ufficio finanziario attraverso complessi analisi contabili al fine di accertare eventuali ulteriori illeciti connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per presunte operazioni inesistenti. Tali approfondimenti hanno fatto emergere un ulteriore disegno criminoso concepito e realizzato dagli indagati attraverso gli stessi documenti fiscali fittizi. Quello di ottenere indebitamente attraverso la documentazione di costi in realtà mai sostenuti un contributo comunitario nell'ambito dei fondi strutturali PORFESTR 2007-2013 stanziati per attrarre nuove imprese nell'area del cratere sismico. La lotta alle frodi fiscali e agli sprechi di denaro pubblico da sempre rappresenta tra le maggiori priorità per la Guardia di Finanza che anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con uffici giudiziari e l'Agenzia delle Entrate è costantemente protesa a contrastare gli effetti negativi causati all'economia dell'evasione fiscale dalle truffe allo Stato e all'Unione Europea. E finisce in Parlamento l'attentato contro il sindaco di Tagliacozzo al quale alcuni giorni fa sotto la propria abitazione erano state incendiate tre auto la sua, quella della moglie e quella della figlia. Il deputato di sinistra italiana Gianni Melilla ha infatti presentato una interrogazione al ministro dell'Interno chiedendo se lo ritenga necessario informare il Parlamento e assumere ogni utile iniziativa per l'accertamento delle responsabilità di questo attentato alla democrazia per la tutela e la sicurezza del sindaco e per garantire la piena agibilità politica Tagliacozzo contro ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti delle istituzioni. E la Procura della Repubblica di L'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone accusate di turbativa d'asta per l'appalto dei sottoservizi. Giorgio Alessandri. Non c'è pace per i sottoservizi all'Aquila. Dopo le polemiche, tutte dal sapore politico, dei giorni scorsi sull'opportunità o meno di sospendere il cantiere per favorire il rientro in centro storico di cittadini e commercianti, arriva ora l'ipotesi dell'appalto truccato per l'aggiudicazione del primo lotto dei lavori. Con l'accusa di turbativa d'asta è stato chiesto infatti il rinvio a giudizio per sei persone, tra tecnici e responsabili di ditte impegnate nella realizzazione dei cosiddetti tunnel intelligenti. Secondo le accuse formulate dal sostituto procuratore Stefano Gallo, ci sarebbe stato un favoritismo della commissione aggiudicatrice dei lavori nei confronti dell'ATI che ha poi effettivamente ottenuto l'appalto. 33 milioni di euro solo per il primo lotto, per la costruzione dei tunnel dove far passare cavi di regi e servizi nella città che sta rinascendo nel post-sisma. Si tratta dell'opera pubblica più complessa e costosa della ricostruzione post-terremoto ed è stata per questo subito messa sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. La realizzazione dei tunnel è stata appaltata dalla Gran Sassoacqua alla società consortile Asse Centrale Scar, composta dalla Ravennate Acmar e dalle Aquilane Taddei e del Fraer. Ancora cronaca, sono entrati in casa con un pretesto, poi lo hanno aggredito, picchiato e colpito alla testa, probabilmente con una torcia. Quindi gli hanno preso una borsa contenente un banco, mattefetti personali e 50 euro. Vittima della rapina aggravata a un pensionato di Lanciano, 54 anni, residente del quartiere storico di Civitanova. I carabinieri, coordinati dal capitano Massimo Capobianco, stanno cercando due uomini che si sono introdotti nell'abitazione della vittima ieri sera attorno alle 22. 20 giorni per un trauma cranico commotivo, la prognosi dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano che lo hanno medicato. E cambiamo argomento, non sono mancati i momenti di tensione all'interno del Consiglio Comunale di Pescara. Ieri pomeriggio, in seduta straordinaria, ha discusso dell'avvertenza dei lavoratori, ex interinali di Attiva, la società partecipata che si occupa della nettezza urbana a Pescara. Alla fine è stato votato un ordine del giorno che investe della questione stabilizzazione dei contratti dei precari, il Ministero del Lavoro, Alfredo Primante. Non sono mancati i momenti di tensione all'interno del Consiglio Comunale di Pescara, convocato ieri in seduta straordinaria, per discutere dell'avvertenza sollevata da 67 lavoratori interinali, fuoriusciti dalla partecipata Attiva, che si occupa della pulizia e della nettezza urbana di Pescara. Al termine del Consiglio è stato approvato, con 20 voti favorevoli e l'astenzione del Movimento 5 Stelle, un ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta. ad individuare tutte le azioni possibili per favorire la soluzione dell'avvertenza ed il reinserimento lavorativo degli ex interinali di Attiva, formulando un interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa la possibilità di procedere alla sottoscrizione di verbali di conciliazione che prevedano la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, con rinuncia contestuale da parte dei lavoratori all'impugnazione giudiziale del rapporto e alla domanda di risarcimento dei danni. Se questa soluzione poi darà i frutti giusti, i frutti che noi speriamo, certo che ben venga. È un interpello, che loro lo chiamano così, un interpello da mandare al Ministero del Lavoro, affinché lo stesso Ministero del Lavoro dia via libera, diciamo così, al Sindaco e all'Amministrazione di poter procedere con la conciliazione, quantomeno con la conversione a tempo indeterminato. Ci sembra un pochino strano che stanno allungando talmente tanto i tempi perché a marzo scadranno i contratti di lavoro dei nostri colleghi che non hanno fatto ricorso ai tramiti legali, quindi non sono incontenziosi verso l'attiva. Questo ci lascia un po' perplessi perché se facciamo, penso in tutte le case 2 più 2 faccia 4, a marzo finiscono i contratti, stranamente il nostro tirocino dovrebbe cominciare il primo di aprile, momento in cui parte, per quanto riguarda l'azienda attiva, il lavoro di picco, il lavoro stagionale, dove serve più gente, dove serviranno più persone. Sono 6 milioni di euro che possono essere investiti nel turismo trasfrontaliero sono contenuti nel bando Adriatic IPA che vede coinvolte 7 regioni che si affacciano sul mare. Adriatico, il servizio. Un bando aperto a tutti gli operatori, turistici, culturali, agli enti e agli imprenditori. Si tratta del programma Adriatic IPA con 6 milioni di euro per capitalizzare i risultati dei progetti. Si tratta di cooperazione trasfrontaliera e coinvolge 7 regioni adriatiche. Questo bando prevede fondamentalmente due regole del gioco. La prima è che non si inventi niente di nuovo, ma si inventi il nuovo costruendo su quello che c'è già e obbligando i beneficiari dei progetti, sono 751 i soggetti che hanno beneficiato l'IPA fino adesso, a fare squadra e a condividere i risultati prodotti con i progetti già finanziati. Da questo si può muovere per inventarsi delle valorizzazioni successive. La seconda regola del gioco è che la dimensione trasfrontaliera adriatica resta anche in questo caso premiante. L'Abrusso ha un ruolo chiave per favorire questo dialogo costruttivo tra Sponda dell'Adriatico orientale e tutte le regioni dell'Adriatico italiano. Quindi almeno 4 paesi devono mettersi insieme per presentare un progetto. Si tratta di 6 milioni di euro, una prima tranche per dare comunque gambe e fiato alla strategia macro-regionale. Cosa si intende per turismo sostenibile? Nell'ottica della strategia della macro-regione adriatico-ionica vuol dire riuscire a coniugare in maniera intelligente mobilità sostenibile e cultura. Turismo sostenibile vuol dire anche valorizzare tutto quello che è connesso alle tipicità, vuol dire anche intercettare quelle nuove nicchie di turismo di lusso che cercano le esperienze autentiche. A chi ha rivolto il bando? A tutti i soggetti che potevano già beneficiare del programma IPA, quindi enti pubblici, operatori economici, soggetti no profit, università, soggetti del mondo della ricerca, associazioni di categoria, associazioni datoriali, quindi l'intera gamma dei soggetti può tranquillamente presentare il progetto, proposto. Ed ora parliamo di imprese. Pescara e provincia in controtendenza rispetto al resto della regione. Crescono infatti le imprese soprattutto nel settore dei servizi, male invece l'edilizia che continua il suo periodo di crisi. A Pescara è boom di imprese ed affare da traino e soprattutto l'area dei servizi. Lo certifica lo studio messo a punto da Aldo Ronci per la CNA Abruzzo, secondo cui nel 2015 nella provincia adriatica il numero totale di imprese ha segnato un saldo attivo di 406 unità, un dato questo in netta controtendenza rispetto al resto della regione, con l'Aquila che flette di 150 unità, Chieti di 106 e Teramo di 17. La variazione positiva del Pescarese si spiega soprattutto con l'esplosione, come detto, del comparto dei servizi tra gennaio e dicembre. Sono 538 le imprese in più, con numeri consistenti nel commercio, più 157, nella ristorazione, più 78, e nelle attività immobiliari, più 40. Affare da contraltare all'impetuosa espansione dell'area dei servizi, dice la ricerca realizzata su dati infocamere, e soprattutto il comparto artigiano che a Pescara, sempre tra gennaio e dicembre dell'anno passato, flette di 208 unità. Di magra consolazione forse sapere che nel resto del territorio regionale sia andata perfino peggio, come mostrano le cifre di Chieti, meno 254 e Teramo, meno 247. Negli ultimi 5 anni in Abruzzo le imprese artigiane hanno comunque subito una flessione di 3817 unità che hanno determinato una diminuzione di 10.300 occupati. Il loro decremento è stato del 2,73%, valore doppio rispetto a quello medio italiano dell'1,37%. La buona performance di Pescara e del suo territorio permette di occultare, ma solo in parte, il cattivo andamento regionale, perché, come illustra lo studio, nelle 2015 le iscrizioni in Abruzzo sono state 8.689 e le cessazioni 8.556, per cui le nuove imprese sono state solo 133. E partiranno nei prossimi giorni i lavori al depuratore di Francavilla. L'obiettivo è quello di ripartire in estate con il mare pulito e senza il rischio di vieti. Paolo Renzetti. Sindaco Luciani, è partita l'operazione Mare Pulito, stabilito il cronoprogramma per i lavori al depuratore? Sì, io penso che protestare sia giusto, perché i cittadini hanno diritto di avere il mare limpido, però non bisogna fermarsi solo alla protesta, bisogna garantire che questo mare tornerà ad essere quello che era. E noi lo stiamo facendo, lo stiamo promettendo. Ieri siamo stati in conferenza dei servizi con l'ACA, ci hanno finalmente esposto un preciso cronoprogramma per i lavori di riparazione che entro fine marzo saranno tutti completati. Ovviamente non ci fermeremo qui perché saremo sempre a vigilare, però c'è sicuramente un'aria d'ottimismo, inoltre in costruzione il terzo depuratore, quindi possiamo contare che quest'estate non ci saranno più di vieti di balneazione. Io sono convinto di questo, ci credo, perché il nostro mare deve tornare veramente a splendere. Lavori che inizieranno quando? Lavori che inizieranno a giorni, c'è un cronoprogramma sia per gli interventi a San Silvestro sia a Fosso San Lorenzo. Sono due rotture, entro fine marzo l'ACA ci ha garantito che i lavori saranno ultimati, inoltre verranno fatti una serie di lavori al depuratore Pretaro e prosegue, come ho detto, la costruzione del terzo depuratore in Valle Anzuca. quindi si sta facendo tutto ciò che è possibile, perché l'estate scorsa purtroppo abbiamo avuto queste negatività, siamo stati col fiato sul collo a tutte le istituzioni, devo dire che abbiamo però anche trovato persone disponibili ad affrontare il problema, quindi l'annuncio che lancio è basta proteste, ora è iniziata l'operazione mare limpido, bisogna portarla fino al termine. E in vista delle prossime elezioni amministrative di Francavilla al mare, è stato presentato oggi il movimento civico denominato Alternativa Libera, che presenta l'avvocato Carmine Montebello, candidato sindaco. Conosciamo. Io sono in campagna elettorale dal 31 maggio 2011, siamo ai giorni d'oggi, siamo pronti per ripartire da dove ci eravamo lasciati, una lista civica indipendente, motto da solo contro tutti, nel senso che loro sono il vecchio stravecchio, sono altro che l'essenza della partitocrazia. Noi riteniamo, senza falsa modestia, essere qualcosa di nuovo, di provare a ripartire da zero. Quindi, svingolati dai partiti, svingolati dai coalizioni, svingolati da tutti, si riparte da zero. Cosa dite ai cittadini di Francavilla? Aspettate e leggerete tutto sul nostro programma che ci sarà. Sarà un programma alternativo, ma in tutti i sensi. Fuori le vecchie logiche, fuori i poteri forti di Francavilla, saranno messi al bando, si ripartirà con nuove energie, con ragazzi dai 20 ai 25 anni in età media. Il nostro obiettivo è quello di formare un'organizzazione stabile, che prosegue un po' il discorso che abbiamo avuto, come lei ben sa, siamo fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Quindi, dopo questa delusione, vogliamo attuare quello che di fatto è stato il nostro primo obiettivo, cioè quello di portare una partecipazione circolare dei cittadini che si aggregano intorno, in questo caso, Alternativa Libera, e saranno tutte decisioni consigliari, e portate attraverso gli strumenti elettronici, che sono quelli di Sinapsi, Airesis, che sono per statuto fruibili da tutti gli associati, e anche associazioni che si vogliono in qualche modo avvicinare. Cambiamo decisamente argomento. Inaugurato a Pescara il Club White Out, composto da 25 appassionati di Harley Davidson, accumunati dalla passione per la moto simbolo degli Stati Uniti d'America. Nella serata di inaugurazione del club si sono ritrovati appassionati iscritti a club anche di fuori regione. Vediamo. Harley Davidson è uno stile di vita, una passione, una volta che compri un Harley ce l'avevi per sempre. È un sogno che è diventato realtà quello di un gruppo di amici che a settembre dello scorso anno hanno fondato il Club Way Out, il primo patch club in Abruzzo di Harley Davidson. Sono gli ideali di rispetto, fratellanza e gusto per l'avventura, oltre alla passione per la moto simbolo degli States e della vita on the road raccontata da Jack Kerouac, ad unire i 25 soci, 16 uomini e 9 donne, che fanno parte del club e che si sono ritrovati a Francavilla per una serata conviviale insieme ad altri fratelli arleisti, i Black Devils Abruzzo, i Vibrata Biker, gli Aternus, i Free Chapter e gli Hog Chapter di Riccione, Perugia, Civitanova, Iesi e Roma. Siamo un ex hogger della famiglia Hog in tutto il mondo. Io sono stato uno dei fondatori del Pescara Chapter Hog e dopo alcuni anni, quasi dieci anni e più, abbiamo deciso, insieme ad altri amici sempre dell'Hog, di uscire dalla grande famiglia Hog e di iniziare un altro percorso che fa parte del Petch Club. Sarebbe la Petch nostra e questa è una Petch identificativa dell'Abruzzo. Questa serata è una serata per... abbiamo invitato tutti i nostri amici per fare una serata tutti insieme per inaugurare, diciamo, il nostro club. Chiunque ha un Arle per noi è un fratello. Ed ora passiamo alla pagina sportiva in vista della trasferta del Pescara sul campo della capolista Cagliari. Aumentano sempre più le possibilità di vedere in campo Ugo Campagnaro. Il difensore argentino nei prossimi giorni tornerà a lavorare regolarmente con il gruppo e farà coppia con Zuparic. Migliorano anche le condizioni di Andrea Coda. Oggi riposo precauzionale per il centrocampista Benali. Intanto nel pomeriggio ha parlato il tecnico Biancazzurro Massimo Oddo che è tornato a parlare di quello che non ha funzionato contro il Vicenza e del prossimo impegno in terra isolana. Lo ascoltiamo. Oggettivamente avevamo qualche difficoltà rispetto al solito perché ovviamente con questo non voglio dare colpa assolutamente agli interpreti però inevitabile che un conto essere preparati dall'inizio dell'anno e fare da tanto tempo determinati movimenti assieme ai compagni è un conto che sono arrivati anche da poco se vogliamo che sono meno abituati e quindi in fase di possesso palla i movimenti erano un po' più offuscati abbiamo avuto delle oggettive difficoltà ma del tutto normali quando comunque ti vengano a mancare 3-4 elementi importanti nella partita stessa. Ugo sta meglio sta facendo un programma già predefinito per rientrare a metà settimana con il gruppo domani vedremo poi quello si saprà quando rientra in gruppo vedendo ovvio che adesso non sta forzando quindi non sente nulla poi quando rientrerà in gruppo e farà determinate cose a ritmo partita vedremo se se starà bene. Non esiste nella mia mentalità contentarsi o andare a giocare per un pari questo semmai può accadere gli ultimi 10 minuti quando vedi che sei un po' in difficoltà allora inevitabilmente difendi un risultato ma la nostra mentalità deve essere quella di sempre cioè quella di di provare ad andare a giocare di provare ad andare a vincere la partita pur sapendo che il Cagliari è una squadra che è forte che è sicuramente la più forte in Serie B ma a maggior ragione penso che più una squadra è forte più tu debba tenerla lontana natuale quindi questa deve essere la nostra mentalità il Tribunale Federale Nazionale della FIGC in seguito a segnalazione della COVO Isoc ha deliberato oggi di infliggere un punto di penalizzazione alla Virtus Lanciano per non aver tempestivamente documentato entro il termine del 16 ottobre 2015 l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi IMS relativi agli emulamenti dovuti ai suoi tesserati dipendenti e collaboratori per le mensilità di luglio e agosto 2015 la società frentana scende quindi da 27 a 26 punti al terz'ultimo posto a pari punti con il Modena nella classifica di Serie B i rossoneri erano già stati precedentemente penalizzati di un punto la società lancianese ha ricevuto anche un'ammenda di 500 euro inibito inoltre per 3 mesi e 15 giorni il rappresentante legale protempore della società proprio ieri la famiglia Maio proprietaria del Lanciano Calcio aveva respinto l'offerta di acquisto dell'imprenditore di origine campana Stefano Bisogno e scendiamo in Lega Pro sono giunte le designazioni arbitrali per le gare della 23esima giornata Savona L'Aquila che si giocherà sabato alle ore 14 sarà diretta da guida di Salerno assistenti Trovatelli di Pistoia e Seicato di Siena Lupa Roma Teramo invece fissata per domenica alle ore 15 sarà arbitrata da Nicoletti di Catanzaro assistenti Cordeschi di Sernia e Sartori di Padova il giudice sportivo ha inflitto 1500 euro di ammenda all'Aquila Calcio e ha qualificato tre calciatori della Lupa Roma Celli Acquaro e Fabbro i due salteranno la partita con il Teramo e ha finalmente trovato domenica scorsa la via del gol contro il Tutto Cuoio si è sbloccato l'attaccante del Teramo Francesco Forte che però ha già la testa al prossimo match di domenica contro appunto la Lupa Roma vediamo sicuramente è un gol importante ma più che altro perché ero venuto qui ho detto che comunque ci aspettavano 17 finali eravamo partiti bene abbiamo fatto due vittorie poi abbiamo fatto due pareggi e chiaramente al di là del gol non gol l'importante comunque è che la squadra vinca e che portiamo a casa i punti perché il presidente è venuto in settimana quindi sicuramente è una figura importante per noi che ci ha stimolato e dobbiamo riprendere la nostra marcia perché ripeto sono sempre più convinto che questa squadra secondo me ha pochi rivali in questo girone però chiaramente lo dobbiamo dimostrare e lo dobbiamo dimostrare in campo quindi ci prendiamo il risultato una partita importante però da adesso si ripensa subito alla partita con la Lupa Roma che è un'altra partita decisiva sicuramente quando cambia gennaio è importante partire bene cercare magari di sbloccarsi subito però mi sono sempre rimasto tranquillo perché la cosa che mi ha contraddistinto negli anni è il lavoro che penso che poi alla fine fino adesso mi ha sempre ripagato quindi sono sempre rimasto tranquillo chiaramente dispiace perché magari è una punta che nelle partite dove sono bloccate 1-1 abbiamo fatto 1-1 a Savona chiaramente mi sarebbe piaciuto dare il contributo però sicuramente adesso dobbiamo pensare in avanti e non indietro quindi quello che è passato è passato adesso c'è c'è la lupa Roma e bisogna pensare solo al futuro e non al passato ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie a tutti